Gaetano Fallea, 68 anni di Favara, dirigente scolastico già in servizio nell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Guglielmo Marconi di Favara, era risultato destinatario di una sanzione disciplinare della sospensione non retribuita dal servizio per tre mesi, ma il giudice del lavoro di egregento, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, aveva dichiarato la nullità dalla sanzione disciplinare irrogata e condannata il Ministero di Istruzione a corrispondere al ricorrente il trattamento retributivo per il periodo di sospensione al servizio, nonché la somma di 2.500 euro a titolo di risarcimento d'anno per il mancato espletamento delle funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice degli esami di Stato, con conseguente condanna del Ministero anche al pagamento delle spese giudiziali liquidate in 4.133 euro oltre accessori. La sentenza resa dal giudice del lavoro, munita di formula esecutiva, è stata ritualmente notificata al Ministero dell'Istruzione e non è stata appellata. Pertanto, dopo il passaggio ingiudicato della pronuncia, essendo rimasta quest'ultima ineseguita, Fallea, assistito all'avvocato Girolamo Rubino, ha fatto ricorso al TAR per chiedere la nomina di un commissario d'acta ai fini di un intervento sostitutivo. Il Ministero dell'Istruzione si è quindi costituito per chiedere il rigetto del ricorso. Il TAR invece ha ordinato al Ministero dell'Istruzione di corrispondere al ricorrente alle somme dovute entro 60 giorni, nominando a commissario d'acta per l'ipotesi di ulteriori inadempienza il prefetto della provincia di Palermo, il quale dovrà provvedere all'adempimento nei successivi 60 giorni, condannando il Ministero anche al pagamento di una penalità di mora quantificata nella misura dello 0,50% sull'importo dovuto per ogni mese di ulteriore ritardo, e condannando infine il Ministero anche al pagamento delle spese processuali inelenti il giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori. Pertanto, se il Ministero dell'Istruzione non corrisponderà al Preside Favarese le somme dovute per effetto della sentenza entro 60 giorni, il prefetto della provincia di Palermo si insiederà al Ministero dell'Istruzione, quale commissario d'acta ha nominato l'altar Sicilia, per esecuzione della sentenza.